Ciao a tutti! Oggi prepareremo i nuggets di pollo. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono petto di pollo tagliato a pezzetti, pan carré senza bordi, formaggio spalmabile, latte, parmigiano grattugiato, sale, uovo, acqua e pan grattato aromatizzato. Andiamo in via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pollo e il parmigiano. Ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 7. Ruiniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il formaggio spalmabile, il pan carré, il latte e il sale. e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 7. Aggiungiamo due cucchiai di pan grattato. e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 5. Il composto è pronto. Adesso mettiamo in una ciotolina l'acqua. l'uovo. E l'amalgamiamo per bene. E andremo a formare i nostri nuggets. Con le mani inumidite formiamo delle palline. Le bagniamo nell'uovo. E nel pan grattato. Le schiacciamo leggermente. e le posizioneremo in una teglia rivestita con carta da forno. E continuiamo così per il resto del composto. Abbiamo preparato tutti i nuggets che possono essere cotti o in padella in olio bollente caldo fino a doratura, oppure in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. Nuggets di pollo. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.